Stampele Dove sono le tue stampele? Dove sono le tue stampele? Sotto il letto Siediti sul letto Siediti sulla sedia Siediti sul divano Siediti sul divano Sei comodo qui sul divano Sei comodo qui sul divano? Non troppo comoda Non troppo comoda Non sei stato attento Non sei stato attento Non sei stato attento Non sei attenta a me Stai attento Stai attento Stai attenta Stai attenta Stai attenta Stai attenta Vuoi guardare la tv? Vuoi guardare la tv? Vorrei vedere il telegiornale Vorrei vedere il telegiornale Passare a un altro canale Passare a un altro canale Dove è il telecomando? Dove è il telecomando? Dove è il telecomando? Di sera davanti alla televisione lavoro ai feri Sei comoda e rilassata? Sei comoda e rilassata? Sei comoda e rilassata? Dove sono i miei occhiali? Dove sono i miei occhiali? Dove sono i miei occhiali? Devo portare Dove sono i miei occhiali? Devo portare i miei occhiali? Devo portare i miei occhiali? Devo portare i miei occhiali? Oggi viene tuo figlio Oggi viene tua figlia Oggi viene tua figlia. Ha chiamato tuo figlio. Ha chiamato tua figlia. Lo prendo io. Non preoccuparti. Devo pulire la stanza. Devo pulire la stanza. Devo pulire la stanza. Lovare i panni sporchi. Lavare i vestiti sporchi. Lavare i vestiti sporchi. Queste cose vanno lavate a mano, non in lavatrice. Sei brava. Sei brava. Lovare i vestiti sporchi. Lovare i vestiti sporchi. Lovare i vestiti sporchi. Lovare i vestiti sporchi.